L'accoglienza dei rifugiati nei piccoli comuni pesa sui bilanci delle amministrazioni già in difficoltà dopo due anni di pandemia e per il caro Bollette il caso di Limana nel Bellunese che ospita due giovani del Burkina Faso. Dario Giotto. Due giovani poco meno che trentenni provenienti dal Burkina Faso arrivati in Italia dopo aver attraversato mezza Africa. Le ha accolti Limana, 5.300 abitanti in provincia di Belluno. Tutte le spese pesano però sul bilancio comunale di un'amministrazione già approvata da Covid e caro energetico. Noi dobbiamo pagare un affitto, dobbiamo comunque garantirgli il mangiare, dobbiamo garantirgli l'assistenza e abbiamo dovuto anche fare un accordo con una cooperativa per dargli quel minimo di supporto perché queste persone non parlano italiano. Accoglienza vuol dire anche assistenza sociale ma il comune di Limana non ha figure specializzate sulla gestione dell'immigrazione. Noi abbiamo fatto un accordo con una cooperativa che quindi fa già questi tipi di servizi, che è specializzata in questi tipi di servizi, che ha avuto nel passato già dei migranti continuamente e costantemente del personale che possa assistere a questi ragazzi. Sul fronte accoglienza nelle prossime ore ci sarà una riunione fra i sindaci di diversi comuni del territorio e il prefetto di Belluno, Mariano Savastano. Mi auguro che ci sia appunto la volontà di venire in conto ai comuni sotto il punto di vista economico per cercare di gestire al meglio la situazione. Arrestata dalla polizia di Treviso una coppia di